E noi siamo pronti! Siamo pronti a fare colazione e poi andare sul cavallo. Sì! Ti devi svegliare! Perché dobbiamo andare a cavallo! E tu hai già suonato due o è la tua specchia? Ti svegli? Oggi arriviamo a cavallo! Ma lui non si sveglia! Io sono elettizzata perché non ci sono mai stata sul cavallo. Per fortuna sono quelli bassi. Gli islandesi. Vediamo che tempo fa. E c'è il sole. E andiamo a fare colazione. Dicigu incidents del che ringtone. Ogni rimardo Repeat. Vediamo come tooth. E faccio. Vediamo che vi consigliere un valore, Cristian oggi è triste perché siamo già in un po' in ritardo e non si può scofanare il suo mezzo chilo di cibo, siamo alle otto, siamo alle otto o alle dieci, tra dieci io ho finito la mia colazione e andiamo ci stiamo avviando, i cavalli ci stanno aspettando, paura il vento si impenna e ti sperona si infatti, non cadi dall'alto ecco che aspetta, ma è così alto eh? no, eh sì, sì sì, sono i nostri? no, non è così contenta no, no, no ah va ti senti finiscono? sì ok ok, siamo all'inizio, sono all'inizio? grazie Cristian signo dei libri e poi torniamo a tornare a tornare a tornare ok mettiam il il mo? il mio filmo è di fondare Posso prendere qualche foto? Sì! E' solo noi oggi, se vuoi fare foto? Ok, se vuoi fermarti per fare foto, ho la storia Fai la schiera! Fai la schiera! Non so cosa sia più bassa? Va bene, la terza idea per farlo Per prima di mostrare un po' come funziona Ok Questa è un po' Anche le persone sono sempre comune, vogliono mangiare Quindi se prendono la mano, prendono la mano e... Ma si ferma a mangiare? Sì! Non si ferma a mangiare! Prima di scendere, perdono le due stagioni Ok? E per scendere Ah, per scendere? Ok, togli tutti i tuoi piedi Sì! Ok! Quindi il top 1 è per te! Stai cadendo! Ma è per colmare? Tiri le briglie E quando invece è per camminare da solo, devi tirarli? No, devi tirarli due colpetti col piede sulla pancia che ti vede un po preoccupata se posso non riuscivi a mettere i piedi ok ecco la cavalliera ciao è rilassante non avete idea del cavallo di claudia si ferma ogni tre per due per mangiare e poi sei il mio cavallo è come lei ho capito perché ne è andato quello stella in gitarella sculetto sculetto cristian continua a ed eccola che rimangia e la continua a fermarsi per mangiare e rimaniamo indietro vai Celine ah mangiare anche il topinam pure perché sei lontano guarda a porno ok vai 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 qui Cristian stai bene? si è rilassante questa è stella è una mangiona ed è un po lazy perché prima hanno provato a correre ma lei non ha voluto stiamo nella natura selvaggia wild dai Jesse eh? Jesse? si si è Jesse io sono Woody sono Cupboard bravo Don't pull Don't pull non vuole che stella non vuole non so bravo Don't pull viva lo spirito di competizione perché il mio cavallo perché se stella cerca di superarlo lui rompe le righe cioè prima mangiava Don't pull c'era Stella quello lì dietro che stava cercando di di sorpassare lui ha smesso di mangiare è stato con il boccone in bocca ed è ripartito gli dà fastidio sta facciando a mangiare guarda guarda non è anche poterlo a mangiare ma l'attima è un po' di più è mica scema l'ho preso come te il giro è finito ti è piaciuto il giro ti è piaciuto il giro? belli che sono Sì. Non sono mica dei bassi. No. Ma adesso sono solo. Questi sono gli altri. Ti avrei paura, non so, non so, non mi metto. Sì, è più di due metri d'altezza. No, due metri. Sì, eh. Sì, è più di due metri. Sì, è più buona, bisogna fare il bidet dopo che si mette la fettura passata. Anche la tua. No, continuano a mangiare. Mi sembra una zuccolata di quell'osso. Sì, non è male. Impressioni da Cavallerizzi. È stato duro, è difficile perché vi ha sorpassato tutti gli ostacoli. Mi ha fatto il percorso e abbiamo vinto. È stato bello. Sì. Sì, andiamo a vedere qualcosa. Un succo di frutta. Prego. Sì, andiamo a vedere qualcosa. Sì, andiamo a vedere qualcosa. Sì, andiamo a vedere qualcosa.